...da fighetto, intrascoltabile in Arabia, mi dice ma lei cosa fa? Lui si dira geometra, anzi si dira geometra, perché geometra è femminile e geometra è maschile. Dice sì, mi sono scritto una palla, mi sono scritto biologia, perché, ma per quale motivo? Dice, sono molto interessato alla possibilità delle culture etropoliche su Marte. E questo amico ha detto, ah sì, un problema interessante è che anch'io ogni tanto studio e dico, guardate, io conosco tutti i bologni, quindi volete fare gli asi, ho prendo su e vado lì, e va bene. Vittor, il bassista del tipo 84, alto, grosso, mi ricordo l'episodio, perché giocava a Vittor. E una volta mi ha invitato, faceva una partita contro una squadra fiorentina, e io, un grosso a Firenze, ho pubblicato l'occasione per darla. E in questo campo fangosino, mi hanno messo a fare il guardalini a Firenze, a un certo punto si è sentito un urlo straziante in mezzo al fango, vedo Vittor proprio piantato nel fango. Vittor si alza, si pulisce, e sotto c'è un altro. Questi, gli amici, che hanno pensato bene, salutarci come nel tempo, vi ricordate di una nuova canzone. Grazie. 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 Grazie.